Vado a picchiettare il prodotto in modo molto molto leggero perché questa è una zona estremamente delicata senti suore zic zacc, zic zacc, up, up, up ciao cara come stai? tutto bene? sì, anch'io sto bene allora oggi sei qui per un bel trucco, giusto? e cosa avevi pensato in particolare per l'occasione? quindi comunque vuoi risultare, vuoi un po' al centro dell'attenzione, vuoi tirare l'attenzione? ok? quindi un make-up luminoso bene, bene, bene magari al rossetto ci pensiamo dopo ok? allora prima di iniziare io mi igienizzo le mani ovviamente le mie mani sono lavate ma è sempre buona norma io adoro l'odore delizio di settimana è un po' strano quindi sì, sto pensando già un po' al tuo trucco straordinissimo però ti posso dire una cosina? ti vedo un po' stanca è possibile? allora sai cosa faccio? così voglio provare a rilassarti proprio con questo trucco quindi usare un po' una tecnica smr non so se ne hai sentito parlare su youtube esatto quindi parlare a bassa voce e fare dei rumorini e farti anche un po' mentre ti trovi un po' un massaggio rendere tutto il più calmo e rilassante possibile cosa ne dici? ok? allora prima di iniziare con il make up però ho visto che ti è rimasto qualche qualcosina qualche residuo di trucco soprattutto qui sulle ciglia quindi lo andiamo a rimuovere molto semplicemente con i dischetti di cotone e appunto voglio farti sentire questo suono chiudi gli occhi se vuoi personalmente adoro questo suono personalmente adoro questo suono e prendo due goccine di acqua micellare questa è quasi finita per ora per ora per ora che due goccine mi avvicino un pochino e vado con il dischetto di cotone a rimuovere i residui di trucco tu ripeto rilassati davvero non pensare a ciò che non ti fa dormire concentrati sulla sensazione proprio del dischetto che passa nella tua pelle è veramente rilassante quando vado a fare le pulizie del viso ad esempio quasi sempre lì tipo mi addormento quasi è proprio una coccola a se stessi vedi che non c'era rimasto praticamente niente però non voglio poi non volevo poi che la resa del trucco fosse penalizzata insomma da questi residui un'ultima passata e poi passiamo al vero e proprio trucco tra l'altro tra l'altro non ti ho chiesto se hai fatto una skin care ok ok se no ti avrei messo anche un po' di crema sì eccetera pensavo pensavo solo di metterti un pochino almeno di contorno occhi in modo di trattarlo bene da evitare le pieghette perchè avendo della pelle un po' sottile un po' scusami secca anche un po' sottile in realtà voglio fare in modo che il correttore non entri nelle pieghette che non secche troppo il contorno occhi soprattutto il soppa dobbiamo fissarlo con un po' di cipria ok ce l'ho qui nella mia trussa questo è una crema contorno occhi con vela granabio e pacchi di koji e anche vegan è adattissima appunto come crema premia il make up perchè è fatta apposta per andare la pelle più liscia prendo giusto un coccino e vado la tua mamma che è vado a picchiettare vado a picchiettare vado a picchiettare il prodotto in modo molto molto leggero perchè questa è una zona estremamente delicata e la giuppa assorbirla non può anche qui perchè è importante tutto il contorno occhi non solo sotto ma anche all'interno e sopra sotto l'area perioculare possiamo passare al fototinta ho scelto ho scelto un fondotinta ho scelto un fondotinta a bassa e media coprenza perchè altrimenti andrebbe troppo 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 a esercire le pieghette a sottolineare la grana della pelle la tua pelle è bellissima così abbiamo bisogno solo più che altro di un pochino di uniformità tutto qua bonjour e si chiama e si chiama healthy mix molto leggero non si sente proprio e un effetto secondo pelle e vado e vado a tamponarlo sotto il tuo viso con questa spugnetta leggermente bagnata e preferisco usare la spugnetta naturale piuttosto che la beauty blender è proprio la mia scelta ok però insomma va benissimo anche la beauty blender se ce l'hai in casa ok comincio dalla fronte chi piace questo suono? chiudi gli occhi se vuoi ok vado anche proprio sulla per confine ai miei capelli ok sentiamo sul mento sentiamo sul mento vado a sfumare anche sulle orecchie è molto importante sfumare anche sulle orecchie riguardatelo sempre e sul collo bene adesso andiamo a correggere il luminare e vado con questi due prodottini qui con questi due prodottini qui prima correggo con il correttore più ad alta coprenza una una tre quattro poi un po' un po' rossori uno qui e uno qui direi che poi non c'è non c'è altro non hai non hai non hai particolari imperfezioni e vado a sfumare e poi andiamo con un correttore più leggero ma illuminante della sephora di illuminare più che altro questa zona proprio l'esterno dell'occhio fronte un pochino mento quindi qui sulla fronte e sul mento è un colore proprio leggermentissimamente più chiaro della della tua pelle ma veramente pochissimo ok vado a sfumare anche qui ora io andrei a fissare giusto con un niente di cipria giusto sotto gli occhi per evitare le pieghette questa cipria è la Velvet Skin Loose Powder di Astra chiamata polvere di riso ed è molto veramente molto leggera ne prelevo un poco fluffy e vado leggermente proprio tamponare quasi esatto esatto fressare la cipria giusto sul contorno occhi e anche un po' sopra per settare una base che ho fatto semplicemente con il correttore bene bene con il cuore che ho fatto è molto un po' sopra passiamo ora agli occhi e allora voglio usare due palette una per i colori matt i colori di transizione e un'altra per i colori shimmer proprio brillantinati luce pura la prima è questa è una palette componibile della ui make up cool girl powder c'è il gioco di perone fa girl power e girl powder ed è fatto in questo modo vedi tutti questi colorini sono molto molto utili tutti questi colorini soprattutto questi matte sono sfumabili bellissimi e adattissimi a fare un qualsiasi trucco giorno e sera io vado a usare questo questo pennellino da sfumatura qui è la real technique con cui mi trovo molto molto bene e vado a utilizzare questo tono un pochino più caldo questo è il centro ne aprilevo un po' spatto via l'eccesso e questo è un colore caldo è perfetto per la transizione l'odore lo uso tantissimo e vado comincio con movimenti circolari per diciamo definire l'occhio dare tridimensionalità a volte quando sono di fretta faccio semplicemente solo questo passaggio magari metto l'illuminante sulla palpebra oppure faccio solo questo passaggio perché comunque apre molto lo sguardo questo passaggio torna proprio le ombre dove ci vogliono le ombre e quindi il riflesso rumina molto anche delle altre zone e questi ombretti in particolare si sfumano veramente molto 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 bene in due secondi perfetto e poi vado con questo ombrettino più scuro qui questo marrone vado proprio a metterlo giusto all'interno proprio tamponarlo leggermente per tenere ancora di più tridimensionalità in questo modo vado a fare avendo una cosa semplice ma super luminosa e vado a sfumare il tutto bene ne prelevo ancora un po' perfetto ancora un po' anche sull'altro occhio ok bene e infine con un pennello più grosso sempre della mia technique molto proprio da sfumatura anche questo vado a prendere il primo colore questo qui un panna sporco un burro ecco un burro rosato e vado a definire i bordi funziona un po' come una gomma ecco sempre sempre con movimenti circolari proprio per aiutarlo a definire il tutto qui anche dall'altra parte è molto comodo se appunto si sbaglia facilmente perché sfumare è una tecnica molto 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 difficile all'inizio quindi questo trucchetto aiuta molto è molto bello anche semplicemente messo così sulla palpebra se si vuole fare un look total matte molto bene lo vado anche con sempre con questo questo pennello sporco di marroncino vado a sfumare anche sotto l'occhio questo perché non voglio esagerare voglio che ci sia una linea netta sotto l'occhio però voglio che tu abbia un appunto che sia comunque definito che il tuo sguardo sia magnetico ecco qua poi andiamo un po' intensificare anche con con il mascare poi per la parte luminosa del trucco ovviamente andrò con le dita e vado a utilizzare questa palette bellissima della mulag che è in my birthday so sweet birthday sweet ho questa bellissima molto bella senti il rumore e anche il tappe in questo proprio bellissimo è una palette in questo molto valida e adatta secondo me soprattutto a chi viazza perché è piccolino ma c'è tutto l'essenziale ho voluto utilizzare l'altra palette per i matti colori di transizione perché trovavo che l'altro fosse un po' più caldo e un po' più chiaro e più adatto al tono di pelle però anche qui ne abbiamo in abbondanza molto bene allora io vado con le dita vado con allora io andrei più verso l'esterno con boom boom poi più all'interno con like a virgin e rich peach un mix e all'interno e all'interno andrei con feel free come tipo illuminante quindi ora che belli chiudi gli occhi chiudi 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 e questo va più verso l'esterno ne basta veramente poco perché è molto intenso sull'altro occhio chiudi 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 poi si guarda che bello sulla mano spettacolare e l'ho proprio sfierato poi vado con il dito a mixare like a virgin e rich peach è una combo bellissima e vado a premere premere proprio quasi sul sul centro dell'occhio verso l'interno dopo andremo a sfumare ovviamente bellissimi questi due colori messi insieme sono spettacolari un altro l'altro occhio chiudi 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 ti stai rilassando bene sono contenta dell'amare vedete ecco qua e poi all'interno vado col mignolino metto appunto devo detto filfri proprio come illuminante come punto luce molto bene è uno sguardo luminosissimo adesso non ci resta allora guarda ti dirò ti farei giusto una linea di ombretto scuro utilizziamo questo che è più scuro sempre dell'aperti di sud giusto per fare una specie di eyeliner ma io farei solo proprio una riga attaccata attaccata alle ciglia per sottolinearle e per accentuare l'effetto del mascara e vado non col nero ma mixo hot joke e come si chiama tabù li mixo insieme per creare un varone molto scuro però voglio stare sempre sul tono del marrone perché dopo pensavo anche di utilizzare il mascara marrone perché trovo che ti stendo l'occhio trovo che con il tuo colore di degli occhi verde nozzola stia d'incanto veramente quindi eh sì ok quindi una cosa molto semplice e poi andiamo appunto con il mascara marrone io mi sono sempre trovata molto 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 bene con questo dell'essence che è I Love Extreme Crazy Volume Brown Mascara che fa veramente un volume pazzesco è spervello con mascara costa poco e te lo consiglio tanto 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 veramente di qualità e vado zigzag 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 up 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 zigzag 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 up 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 vado un po' anche sotto leggermente e ancora guarda in giù ok questo è veramente estremamente allungante ma anche volumizzante meraviglioso zigzag 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 up 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 zigzag 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 up up e vado anche a intensificare proprio le ciglia all'interno e all'esterno che a volte vengono un po' ignorate ma non da me ok perfetto il tuo sguardo è magnetico il tuo sguardo è magnetico e ti sta veramente un incanto questo trucco è proprio il tuo ovviamente il mio personale pare il tuo però come base viso cioè come come contouring blush eccetera e andrei con questo con questa palette che era senza titolo numero 3 che richioma in collaborazione con Cosmify è bellissima facilissima da usare super usata come puoi notare e vado ad utilizzare questa terra che è perfetta per il tuo incarnato io cerco il mio pennello da terra bronzer io ti direi essendo sera vado con queste paste non con queste che è un po' più caldo quindi tap 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 tolgo il sesso e il segretto di un buon contouring è partire dall'orecchio qui parlo abbastanza alto ma ci fanno molto molto basso ci va fatto alto quindi ok e sfumo vado un po' anche tutto sul sul contorno del viso intendo verso proprio le orecchie e sfumo vado un po' anche qui leggermente proprio bene ancora un po' dall'altro lato ecco qui e sfumo sempre bene 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 sempre con movimenti circolari ecco qua anche qui bene ora io come blush mi piace molto questo però è molto acceso è più da giorno quindi io cosa faccio lo vado a scurire a vampirizzare un po' mischiandolo con la terra e per dargli ancora più luminosità lo vado a mischiare anche con l'illuminante quindi io faccio così proprio un mix di tutto via l'eccesso e parto da qui e arrivo qui in modo molto leggero non voglio esagerare con il blush di sera benissimo voglio giusto dare un po' di colorito via l'eccesso e ancora e come illuminante io vado direttamente io vado direttamente con il dito e vado a utilizzare questo qui lo vado a picchiettare questo illuminante è relativamente leggero ovviamente stratificandolo diventa più più power però non so vedi non è non è pesantissimo però secondo me caricando molto lo sguardo dopo avere un illuminante troppo carico non so di sera non lo so non è non mi sembrava adatto dopo magari distogli lo sguardo veloce attenzione dal tuo sguardo e non mi va molto bene ti consiglio tantissimo anche questa palette è un salvavita comodissima in viaggio cioè in viaggio di portare questa e questa e se è a posto comodissima ultimissimo step no per un ultimo step perché mi stavo dimenticando le sopracciglia perché le già sono molto molto belle quindi cose mi venivano a non farle ma le facciamo semplicemente le pettiniamo ok è una cosa molto semplice e vado ad utilizzare il Benefit Kimmy Brow nella colorazione numero 3 vieni qui ecco qua vado semplicemente a pettinare vado semplicemente a pettinare le sopracciglia ecco qua bene ok per il rossetto io mi sono portata dietro qualcosa un tutto ovviamente pensavo a un rosso nude oppure qualcosa o qualcosa di un po' più chiaro un po' più scuro è ad esempio questo che è Vlad sempre di Eriki Opa dei vampireschi un rosso molto scuro un rosso marroncino che però è veramente affascinante secondo me con questo trucco però sono questo è una promozione possiamo avere un rosso classico su base fredda quindi che non ingiallisce i denti eccolo qua questo è il numero 33 di WeMakeup è bellissimo molto classico senza tempo però ti dirò secondo me con questo trucco è un po' esagerato perché ho il trucco luminoso o il rossetto rosso non entrambi almeno su di te c'è uno scuro è diverso ma rosso 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 non lo so perché poi ho anche questo un po' più acceso ad esempio di rosso ne ho tanti di rossi è il numero 34 che è quello che sto indossando ora sempre di WeMakeup molto bello un po' più fucsia fragola ma anche qui secondo me non è abbastanza scuro e anche questo no non troppo vangone a 44 troppo chiaro oppure possiamo avere un nude molto bello ad esempio lo 02 un nude molto da giorno sono sempre tutti di WeMakeup questi mi trovo molto bene vedi un nude veramente classico del colore quasi delle tue labbra e andremmo semplicemente proprio un po' a sportare magari oppure possiamo utilizzare questo che è un po' più marroncino un po' più caldo in questo secondo me sta molto bene lo 05 sempre di WeMakeup un po' più scuro ma sempre nude secondo me questo sarebbe estremamente bene oppure 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 l'ultima versione che ho per è un nude molto chiaro questo è se le apri di skin di Jeffree Star è un nude più chiaro delle tue labbra freddo freddo che può essere un'alternativa proprio questo da totale attenzione agli occhi a della scelta insomma io inestamente opterei quasi per questo che sono i 10 va bene e andiamo a scaricarlo e estendi le labbra ho fatto bene estendi le labbra questo posto è veramente una passata ok estraportiamo proprio leggermente benissimo wow meraviglioso io direi che il trucco è completo stai un incanto io ti auguro una splendida serata e mi raccomando questo weekend rilassati perché ne hai bisogno e quando vuoi rilassarti insomma vieni davvero vieni qui e ti faccio rilassare ti faccio anche un make up proprio giusto per divertirsi per stare bene per farsi una coccola ok molto bene ti auguro una buona serata e ci vediamo presto ok ciao